Buonasera a tutti e a tutti, siamo qui oggi con Katrin Lacey e con Martina Testa di Sur, che ha il merito di aver pubblicato tutti i romanzi di Lacey. Oggi siamo qui per Biografia di X, ma potete leggere anche Nessuno scompare davvero le risposte e a me puoi dirlo e sono molto contenta dopo circa un anno che parlo di questo romanzo a ogni incontro, in ogni occasione possibile, perché sono veramente ossessionata dall'avventura intellettuale, anche dal piacere che genera e prima dicevo è anche un'anomalia rispetto a tanta narrativa americana contemporanea un po' sfittica e chiusa rispetto ai riferimenti culturali. Sono felice di averlo chiamato col suo nome giusto, perché io continuavo a dire che era autobiografia di X e credo che questo inciampo è legato al fatto che si tratta appunto di una falsa biografia, ma entreremo propriamente nel merito di che cos'è. Faccio una breve premessa, il libro è anche costruito in maniera da disorientare rispetto ai riferimenti all'esistenza o meno di una presunta biografia di X che viene scritta dalla vedova di quest'artista, C.M. Lucca, che nel 2005 pubblica effettivamente questa autobiografia, questa biografia, continuo a inciampare, scusatevi, di X nel tentativo di approfondire, scoprire chi era davvero l'artista e la donna che aveva sposato dopo che è uscita su di lei una biografia letteraria che ha avuto molto successo che si chiama una donna senza storia. Questa avventura di cercare di scoprire chi era appunto X con cui ha condiviso l'intimità del matrimonio la porta a visitare per la prima volta gli stati del sud, i territori del sud dopo che c'è stata la grande disunione. L'America presentata all'interno di questo romanzo è caratterizzata da un nord di un progressismo radicale e di un sud in cui c'è una teocrazia fascista in cui effettivamente si scopre che X è nata e quindi c'è questa riflessione metanarrativa su che cos'è una biografia letteraria unita all'ipotesi di una geografia americana rivisitata con la presenza di un regime dittatoriale a sud. La prima domanda che vorrei fare è un po' in continuità con gli altri libri di Catherine Lacey che ha lavorato molto sulla sottrazione dell'identità dell'io, una sorta di desaturazione dell'io attraverso la scomparsa o attraverso l'impossibilità di essere definiti per etnia, genere. In qualche modo in anni in cui la letteratura insiste molto sul posizionamento dei personaggi qui si è intrapreso proprio un tentativo di spacchettare l'identità. Questo accadeva nei romanzi precedenti, qui mi pare che si ottenga un effetto simile di in qualche modo fare esplodere che cos'è l'identità di una persona però riempendola di tutti i riferimenti possibili, di tutte le citazioni possibili facendola parlare con parole di altri romanzi, di altri artisti. In qualche modo mentire costantemente, inventare sempre storie sul proprio passato e quindi questa dialettica tra un io che si dissolve perché appunto scompare è un io che invece si dissolve perché ci sono tanti io che insomma vengono fatti esplodere insieme. Sì, questo l'ha fatto in continuità con gli altri romanzi. Sì, questo l'ha fatto. Sì, questo l'ha fatto. Sì, questo l'ha fatto in generale, ogni volta che scrivo un libro, ho sentito che sono sempre rispondi a qualcosa che non finissi con l'ultima o qualcosa che mi ha messo con l'ultima e che volevo fare l'ultima e che volevo fare l'ultima e fare l'ultima di fare l'ultima. E quindi ho visto che i tutti i nostri sposti sono a lavorare in ogni libro. E anche il mio primo libro, in qualche modo, in qualche modo, era un regetto di alcune delle progetti che non hanno fatto. in qualche modo. non è un po' di rinforzare, non è un po' di rinforzare. Quindi non è un po' di rinforzare in termini, in termini di rinforzare, giovane, e sex, e class, ma è un po' di rinforzare. Io credo che per me l'identità è molto più grande, è molto più esistente e strano. Sì. Ho spero che non sia troppo. Intanto grazie, questa è una stanza pazzesca in cui fare una presentazione. In generale ogni volta che scrivo qualcosa è una sorta di risposto, di reazione a qualcosa che c'era nel libro precedente, qualcosa che magari ho lasciato ancora incompiuto, irrisolto, qualcosa che mi dava fastidio, qualcosa che voglio rifiutare e lasciarmi alle spalle del libro prima per fare qualcosa di nuovo e di diverso. Anche addirittura il mio primo libro era in qualche modo un rifiuto, un superamento del mio primissimo progetto che non ho mai pubblicato. Il mio libro precedente era un libro che aveva al centro un personaggio di cui non si sapeva, non si capiva il genere, l'età, l'etnia, che aveva un corpo che ogni persona che lo guardava lo vedeva diverso e quindi questo personaggio quasi privo di identità. E poi era un libro in cui c'era una serie di paletti, mi ero messa, era un libro che si svolgeva tutto all'interno di una singola settimana, giorno per giorno, un libro che parlava di un posto nel sud degli Stati Uniti, molto religioso, con un'atmosfera come il posto in cui sono nata e dove sono cresciuta, che è un'atmosfera piuttosto chiusa e opprimente. Quindi scrivendo quel libro mi sentivo un po' messa all'angolo, avevo inquadrato una cosa molto precisa, c'erano un sacco di paletti, però finito quello invece ero un po' stufa di questa quasi camicia di forza che mi ero costruita con quel progetto lì appunto molto specifico, molto concentrato e invece volevo fare qualcosa di molto più di ampio respiro. e quindi reinventare quasi 150 anni e riscrivere 150 anni di storia americana, mettere al centro un personaggio di una donna che fa mille cose, capace di fare tutto praticamente, una persona che sta effettivamente anche però evadendo, fuggendo dalla sua stessa identità. Tu parli di identità, io in realtà non avevo idea, non avevo capito neanche io stessa che stavo scrivendo in ogni libro, che stavo parlando di identità, però probabilmente è vero, me ne accorgo, poi sono cose che uno se ne accorge dopo aver scritto, quando il libro gli viene insomma commentato da altri, e forse sì è un'idea che comunque mi porto dietro, c'è da qualche parte dentro di me questa cosa che continuo ad affrontare, e in qualche modo non ne esco, c'è un detto in tedesco che dice qualcosa tipo non puoi saltare al di là della tua ombra, insomma non ti puoi staccare dalla tua ombra, c'è qualcosa che ti porti in qualche maniera sempre dietro, e forse sì può essere che nel mio caso è questo continuare a scrivere, forse lo identificerei così, continuare a scrivere di quanto è strano, di quanto è assurdo l'essere umano, e quindi anche l'identità dell'essere umano, che per me non è qualcosa che si può limitare a un elenco di caratteristiche di genere, di razza, di classe, di età e cose del genere, l'identità per me è qualcosa di molto più grande, di molto più complicato, di esistenziale e di bizzarro. Mi piaceva molto questo riferimento alla mancanza, al reagire alla mancanza di un libro precedente, o una questione non risolta nel libro precedente, perché se dovessi dire perché Biografia di Hicks è un romanzo felice e riuscito, è perché invece di catturare uno spirito del tempo, secondo me reagisce allo spirito del tempo in letteratura, e in questo senso sono anni in cui siamo congestionati di scritture dal vero, scritture memoriali, legate alla memoria, all'autofiction, all'autobiografia, e mi pare che, anche se sono romanzi diversi, sia Biografia di Hicks che Trust di Hernan Diaz, in qualche modo partano da fiducia nel romanzo, che in qualche modo va a investigare a casa della scrittura autobiografica, biografica e in qualche modo dei memoir, e tornano al romanzo in modo da renderlo un oggetto ancora più potente e aumentato, che è l'opposto di quando prima leggevate delle autofiction o dei memoir di cui si diceva somiglia a un romanzo. Questo è il movimento opposto in un certo senso. E quindi prima di entrare proprio nella materia di cosa racconta, il libro, volevo sentire, Catrine Lacy, su cosa ti interessava proprio come dispositivo formale nella biografia? I just really like biographies. I've read a number of biographies that I don't know, I'm very humbled by them in ways that I can't always be humbled by even the best fiction because it's kind of like, you know, not that I know how to write any kind of novel that I would want, but in some ways, like it's too familiar because it is what I spend most of my time doing. And so when I read a biography, I'm just amazed sometimes at what a writer can squeeze into, you know, a single book and what a life can have in it. and also there's something really moving about just knowing that the story is done, like the character has already died, you know, the main character of the book, like the narrative is kind of done. and I find that appealing. So I mean, I like, I like with the beginning of a book I've found, or as I've kind of gone on and, you know, my more recent books, like I have to know sort of what the room is that I'm working in from the beginning. I can't, to some degree, I need to know like, you know, this book takes place over a week or this book is, you know, is going to be structured in this way. I need to have some sense of limit. And I, I just thought a biography is a nice limit. It's an interesting limit to me. And I hadn't, I hadn't read anything. It was just, I wanted to read it too. I think that's also, that has to be part of like your impulse for why write the book that you're writing. It has to be, I want to read this book. If, if somebody described such a book to me that already existed, I would go read it. Um, so yeah, that was like maybe the, the original impulse. Well, fundamentalmente mi piacciono molto le, le, le biografie. Eh, ne ho lette parecchie, e resto sempre ammirata in un, di un, di un'ammirazione che forse non provo anche per i migliori romanzi. Forse perché la scrittura, appunto, saggistica e biografica, o, diciamo, o meno dimestichezza con questo, eh, tipo di scrittura mi, 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 mi viene meno, meno facile, meno familiare. Non che la narrativa, io saprei scrivere qualunque romanzo, però la biografia in particolare mi sembra qualcosa che, eh, appunto ammiro perché è un po' lontano da quello che io, eh, so fare. Mi, eh, ammiro il fatto che gli scrittori riescono in una biografia a concentrare, a stringere un'intera vita all'interno di quel certo numero di, di pagine. trovo in qualche maniera anche commovente il fatto che si sappia che la storia in qualche modo è conclusa, che quella persona lì è morta, che è una narrazione conclusa, in se stessa, chiusa, e questa cosa qui anche questa un po' mi, eh, mi attrae. Eh, ho capito nel, nel corso della mia carriera che, eh, per cominciare a scrivere devo un po' sapere, eh, non tutto quello che andrò a scrivere, ma quantomeno in quale ambiente, in quale stanza sono mentre mi scrivo, com'è fatta la stanza in cui mi trovo nella, nella scrittura, eh, ossia per esempio sapere se il romanzo si svolge nell'arco di tempo appunto di una settimana, eh, molto di più di così, avere un, un certo tipo di, eh, struttura, avere il, il senso di avere dei, appunto dei, dei limiti, dei confini, dei paletti che mi metto e in questo caso appunto la, eh, la biografia, cioè scrivere una biografia mi sembrava un bel, eh, limite, cioè mi sono data appunto questo, eh, tipo di, di struttura iniziale e, e volevo anche che fosse un libro, voglio sempre che sia un libro che, eh, voglio scrivere un libro che avere voglia di leggere, cioè che se me lo descrivessero direi, ah bello, questo qua lo voglio leggere e quindi anche questo qui era il mio tentativo, insomma, la mia idea era di scrivere una biografia che mi sarebbe andata a di leggere, questo era il mio intento iniziale che mi sono data così in maniera totalmente, insomma, preliminare. but I actually think it's interesting you brought up Bernan Diaz's trust, one, I love that book, it's fantastic, but I read it like a few months ago, but two, he has said in interviews that he doesn't write about anything personal, his books can't be personal to him, they can't be, I don't even know what that means exactly, except that I believe him, but I have to, I have to feel like there's some kind of personal stake, there's like, there has to be something deeply almost too revealing in the book that I put in there, I usually don't know, I think I know what it is at the beginning and I think I'm writing, I'm like, oh this is the part that's personal to me or this is the part that's like a little autobiographical, it's maybe not like what it would seem and then later I realize, no, there's actually this other huge thing that's way more personal that I would have never written about if I had known, but I don't mind, I don't, I think Deleuze said or wrote somewhere that life is not personal and I think I like that. Un'altra cosa dato che hai sento? No. Non so se... Sì, sì, no, mi sembra che non si senta più dal microfono ma si senta solo la mia voce. Vabbè. Ma tanto mi sentite? Ok. Lo tengo davanti ma secondo me non funziona. Vabbè. Tanto che hai nominato Trust di Hernan Dias, intanto fammi dire che è un libro che amo tantissimo, l'ho letto qualche mese fa, secondo me è bellissimo, ma Hernan Dias ha detto in un'intervista che forse l'ho spento io per qualche... Adesso. Ok. Ok, scusate. Ha detto in un'intervista che non c'è diciamo niente di personale in quello che scrive, che lui non si mette mai dentro i suoi libri. Non so esattamente che cosa voglia dire ma gli credo in qualche modo però io penso devo per quanto mi riguarda in qualche modo devo credere che ci sia un livello profondamente personale un qualcosa anche a fondo anche non molto chiaro di qualcosa che io ci sia dentro quel libro in qualche modo e la cosa strana è che magari credo di saperlo cioè mentre lo scrivo mi dico questa è la parte autobiografica questa è la parte in cui sto mettendo dei pezzi di me questa è la parte che mi è più personale più intima più vicina e poi alla fine capisco che solo dopo che invece c'era tutta un'enorme parte del libro tutto un altro grosso aspetto che era invece estremamente personale e che forse non avrei neanche scritto non avrei neanche tirato fuori quella parte di me se me ne fossi resa conto e invece di quanto sia personale un libro me ne rendo conto soltanto e di in che punto sia personale profondamente personale un libro me ne accorgo soltanto molto dopo d'altra parte Deleuze diceva qualcosa del tipo la vita non è personale ed è una citazione che mi piace molto e io accolgo questo riferimento a Deleuze per un'altra citazione che non è nel libro però che un po' spiega il personaggio di Hicks Deleuze diceva che è proprio dei regimi dittatoriali costringere le persone a dire a posizionarsi in qualche modo a parlare di sé anche quando non c'è questa intenzione e quindi c'è un diritto al non dire diciamo che il personaggio di Hicks prende questa ipotesi e la porta all'ennesima potenza perché è una mentitrice seriale si crea degli alter ego quattro nello specifico camuffa le sue circostanze di nascite chi ha incontrato nel libro ci sono incontri con David Bowie un artista che si chiama Connie Converse di cui parleremo è per un certo periodo l'amante di Carla Lonzi cito la questione di Carla Lonzi perché potete leggere una bellissima intervista non un'intervista in realtà un elenco di biografie che lei si ha letto sul Guardian c'è quella di Sight Ombly e poi c'è appunto autoritratto di Carla Lonzi che in questo discorso sulle biografie è interessante perché prende una terza via rispetto all'interno di questo romanzo c'è uno scontro di forze fra la biografia che ha successo di questo giornalista che scrive un libro su Hicks che si chiama Una donna senza storie a me ha ricordato un po' delle biografie che non ho particolarmente amato di Benjamin Moser su Clarice Lispector o su Susan Sontag che sono biografie innamorate ossessive ma competitive con l'autrice sono anche un po' orientate a questa cosa dello scandalo e del mistero e invece autoritratto di Carla Lonzi rappresenta una via molto più libera in qualche modo alla ricerca biografica C.M. Lucca nel libro scrive la biografia di Hicks e di sua moglie perché è vedova ha subito una perdita ed è disorientata all'idea di non aver mai conosciuto questa persona quindi rappresenta un altro modello di biografia ancora all'interno di questa cornice mi interessava un po' esplicitare la questione del farlo reagire con questi 150 anni alternativi fondamentalmente di storia americana e quindi in quale momento della scrittura o della concezione del romanzo è arrivata così forte l'idea di una realtà parallela o di una in qualche modo far dialogare la biografia la non-fiction con la narrativa di genere the alternate America I found recently I had been telling a different story about this I had been saying I always knew I wanted it to be a woman writing about her dead wife in fact when I was first taking notes for this book and I found them randomly and I didn't realize it had been much earlier than I thought I had imagined at first a woman writing about her dead husband but then I think shortly after that maybe literally the next page in the notes I was like oh well that would be boring because like somebody some woman just being like oh I was married to this great man I'm already like no I don't want to do that and then the other way around is not interesting either or it just wasn't appealing to me because if it was a husband writing about his dead wife he's getting to have the last word on this woman's life and I didn't like how that felt and so I thought well it's just natural that it should be two women then but then I thought well I wanted this artist to be working in the 20th century I already knew I wanted it to be a biography and then I knew I wanted it to be an artist that had worked in many different modes and had been in conversation with many artists that I admire or am interested in or have problems with or whatever and so then it was going to be these two women but it was the 20th century and I didn't want to write about what a lesbian couple or a female artist would be up against in the 20th century I just there were just so many things about that where I was like pre-tired so I was like well okay well I'll just imagine I'll just change America so that it would be no big deal it would just be totally I tried to imagine America where gender and sexuality were just like boring topics that nobody was like limiting each other or policing or you know it wouldn't be a limit so I started thinking well what would have to happen in America for that to be the case and at that I think I started writing this character just not really knowing the world that she was in and I was working on that and then eventually I kind of realized I would have to change things in like mid-18th or mid-19th century American politics like there would have to be different things that happened back then so then I started reading a bunch of books about politics in America at that time period when the country was very molten and still brand new in a lot of ways and that was interesting and it just got more complicated from there but it really was just a decision that I made to just have these two women be left alone it's like that this is how many things you would have to change about America just for like a lesbian couple to just get to exist without problems or with interesting problems rather this is also my Italian lesson diciamo che da sempre sapevo che volevo scrivere non proprio ma insomma quasi subito ho capito che volevo che questa biografia mi ero data l'intento insomma il compito di scrivere una biografia dove essere una biografia di una donna che parlava di sua moglie morta ho ritrovato dei vecchissimi appunti in cui proprio inizialmente proprio molto molto all'inizio avevo pensato a fare una donna che parlava del marito morto all'inizio proprio avevo pensato così ma poi mi sono subito resa conto che era un po' noioso non mi andava di parlare di una donna che insomma raccontava di questo grande uomo questo grande personaggio che era suo marito questa cosa mi annoiava e d'altra parte pure non mi interessava far parlare un marito della moglie morta perché non mi andava anche insomma di questa grande donna super interessante eccetera raccontata dal marito questa cosa qui pure non mi interessava troppo perché non volevo lasciare l'ultima parola al marito a quest'uomo su questa donna mi sembra di dargli troppo potere quasi insomma e quindi anche questa versione insomma le due versioni di una coppia eterosessuale non mi interessavano tanto ai fini di questa biografia invece mi è venuto mi sembrava più naturale più interessante che si rattasse di una coppia di due donne volevo raccontare appunto come una donna lesbica un'artista si era espressa in modalità differenti ed era stata in conversazione insomma in dialogo con tanti altri artisti del novecento personalità del novecento che trovo interessanti che ammiro o anche con cui ho dei problemi insomma che non mi piacciono volevo che attraversasse questa figura di donna il novecento questa figura di donna lesbica anche questa coppia lesbica la volevo posizionare nel novecento ma non mi andava di scrivere di tutti i casini i problemi che avrebbe avuto un artista del genere per emergere o una coppia del genere per vivere nel mondo non volevo parlare di tutta appunto la lotta che avrebbero dovuto fare perché già ero stufa prima di cominciare di parlare di quanto la società le aveva oppresse o così via e quindi volevo ho pensato di cambiare la storia americana in modo da immaginare da creare un'America in cui un artista donna lesbica non avesse tutti questi ostacoli immaginare un'America in cui le questioni di genere le questioni sessuali non fossero così discusse non ci fossero tutti questi problemi non ci fossero tutti questi limiti queste discriminazioni che fossero un po' superate che insomma tutto quell'aspetto lì non ci fosse che cosa dovrebbe succedere perché esista un'America del novecento in cui non sia difficile per una donna lesbica emergere insomma in cui non ci siano questo tipo di discriminazioni mi sono resa conto che dovevo come dire immaginare cambiare l'America a partire probabilmente dalla metà del novecento e quindi mi sono messa a leggere un sacco di libri di storia americana per reinventare la storia del mio paese e farne una una storia alternativa come poi faccio nel libro e da lì le cose si sono un po' complicate ma insomma alla base della mia idea di inventare un'America alternativa c'era il fatto che volevo descrivere la mia decisione proprio di descrivere due donne che diciamo nel loro rapporto lesbico venivano lasciate in pace che non dovesse non essere costrette a tematizzare quanto fosse difficile quella posizione e quindi appunto c'erano un sacco di cose da cambiare nella storia americana per permettere a una appunto per permettermi di scrivere la storia di una coppia lesbica senza problemi o quantomeno con dei problemi che io ritenevo molto interessanti sì e venendo a questa coppia e al novecento sia Melucca e X si incontrano tra l'altro a un'inaugurazione di una mostra in una galleria però X le passa subito questo bigliettino che lei si nasconde in tasca le dà un luogo dell'appuntamento e leggendo scopriamo che si vedono arrampicandosi su una scala di corda una scena molto molto bella secondo me oltre che spietatamente romantica camminano su questi binari del treno che sono stati chiusi la fermata della meno che è stata chiusa ed è mangiata dalla vegetazione che poi anni dopo è diventata l'highline quindi se qualcuno di voi ha familiarità con New York era questo per dire che c'è una familiarità con la storia della città degli Stati Uniti anche con un certo tipo di novecento perché effettivamente X che nasce in questo territorio del sud da cui nessuno scappa vivo e quindi probabilmente la sua esigenza di mentire di disintegrare la sua identità è dovuta anche all'esigenza di non essere stanata e rintracciata e quindi fa di questo proposito politico un proposito esistenziale e artistico dicevo la familiarità del novecento perché comunque nelle sue avventure quest'artista finisce a Berlino negli anni della trilogia berlinese di David Bowie e a Milano incontra il gruppo di autocoscienza di Carla Lonzi vede Kathy Ecker riceve lettere da Dennis Johnson e io ero felicissima di trovare questo riferimento perché uno dei principali scrittori americani degli ultimi quarant'anni a mio avviso molto negletto vi invito a leggerlo e quindi ci sono tutte queste schegge culturali familiari e ce ne sono altre impreviste quando io ho trovato Lonzi in Biografie di X mi sono sentita come quando leggendo una vecchia storia di Roberto Bolagno su una pornostar che si chiamava Giovanna Silvestri questa va a trovare il suo fidanzato a Los Angeles accende lo stereo a parte una canzone di Nicola di Bari allora io mi chiedo sempre ma come c'è finita quella canzone di Nicola di Bari in un racconto di Bolagno e finalmente quando ho letto Biografie di X ci ho sentito questa fame di mondo che è più tipica di una certa tradizione letteraria cosmopolita come quella sudamericana piuttosto che quella angloamericana tutta questa solfa per dire che ci sono dei personaggi riconoscibili altri che io pensavo fossero inventati e invece erano veri e vengo a Connie Converse che è una musicista della scena folk di New York con cui X ha una relazione un rapporto molto ambiguo si prendono si lasciano ci sono veramente degli strappi e io pensavo fosse modellato su Karen Dalton che era questa artista folk che tutti dicevano è Dylan prima di essere Bob Dylan poi è morta con una dipendenza dall'alcol e invece facendo delle ricerche che mi rendo conto che Connie Converse esiste potete sentirla e come c'è finita e perché ha questo rapporto così indefinibile con X perché mi ha lasciato una grande curiosità in general the reason Dennis Johnson and David Bowie and Sontag and all these people are in the book is I think I think we construct our identity through other people you know so if I'm writing a biography of this person who was really great and you know in my head this is imagined very powerful artist I need to make that clear to the reader by kind of showing who they're similar to who they're in conversation with you know it also is just true when you're when you're reading a biography of you know anyone that is interesting to you other people that are interesting to you show up that oh you didn't know that Karen Dalton and Bob Dylan had a thing or whatever it's like they pop up right but Connie Converse in particular Connie Converse was a singer-songwriter and a writer who was living in New York City in the 50s and 60s and she was amazing she was completely ahead of her time and she was totally ignored and so she was trying to get a career off the ground kind of but she was really really not good at self-promotion she was very strange she was probably a closeted lesbian she just had everything against was not going for her and then basically like Bob Dylan shows up and is exactly the same not that he copied her but he was exactly the same and of course he blew up and but by then she had left New York given up her career and she went back to Ann Arbor Michigan and fell into obscurity and then eventually vanished and these tapes that she left behind were reissued in a few probably 10 years ago or so as vinyl and then they were put on Spotify and then Spotify brought them to my attention around like 2016 and I just I just loved these albums I've just played there's like two or three albums and I just played them on repeat all the time and I didn't bother looking into who this was I just was loving the music and then eventually I was like who is where who am I listening to and so I went and googled who's Connie Converse and I expected her to still be alive or to have I don't know to be traceable somehow and what happened though is she in this in 1972 she drove she left a note to her brother saying pay my health insurance premium for another month and then don't bother and which is such a weird note to leave behind and she just vanished and we don't know if she killed herself it was like never she was just like an unsolved missing person and I was really devastated I was actually like I'm every time I talk about her in that moment I get chills and I'm like I feel like I'm about to cry because I really I was very I was as if somebody very close to me had died you know and so I was just very moved by her and I just wanted I think I was thinking about this book I wasn't writing it yet and I just wanted her to I wanted to extend her life not to like totally give her some kind of fake happy ending but I just wanted her to have somewhere else that she went and something else that she did and maybe some sense of how important her music could have been is to people many years after she's gone she was completely unappreciated in her lifetime and I think a lot of people can I think relate to that maybe they don't feel seen in the way that they think that they could be or they just feel invisible in one way or another and yeah I just I just love her yeah I just love it the reason why Dennis Johnson David Bowie Susan Sontag are in the book is that I think we build our our identity through other people and so if I talk about a great artist if I build a life of a great artist it's normal to tell raccontare la figura di questa artist raccontare con chi è con chi ha avuto un dialogo con chi aveva intorno con chi si è interfacciata infatti quando leggiamo una biografia normalmente cioè capita spesso che nel corso del racconto della biografia di una singola figura poi vengono fuori la sua biografia si interseca e vengono fuori altri personaggi interessanti che a un certo punto sbucano con cui lei si è incrociata magari senza neanche che noi lo sapessi ma all'inizio scopriamo che appunto il soggetto della biografia ha conosciuto pure questo o quello saltano fuori questi nomi è una cosa interessante quindi appunto per questo ci sono tanti altri personaggi dentro il libro in particolare Connie Converse Connie Converse era una account autrice scrittrice che ha vissuto a New York fra gli anni 50 e 60 un'artista straordinaria per me molto avanti rispetto al suo tempo completamente ignorata ha cercato di far partire la sua carriera in qualche modo ha avuto sempre enormi difficoltà perché non era particolarmente brava da promuoversi perché era una persona un po' bizzarra strana probabilmente una lesbica non dichiarata e mentre lei appunto cercava in qualche modo di affermarsi è arrivato Bob Dylan che suonava faceva più o meno lo stesso tipo di musica non dico che lui la copiasse ma insomma più o meno il tipo di musica era quello e la sua grande popolarità di Bob Dylan l'ha più o meno insomma appunto fatta un po' scomparire dalle scene tanto che Connie Converse lasciò New York per rinunciando insomma tutto sommato alla sua carriera musicale andò a vivere a Ann Arbor che mi pare sia nel Michigan dove ha condotto insomma una vita piuttosto scura insomma completamente ritirata dalle scene finché non è proprio svanita praticamente nel nulla e alcune delle insomma dei suoi album sono stati ripubblicati una decina d'anni fa in vinile alcuni dei nastri che aveva registrato inizialmente sono stati ripubblicati in vinile sono finiti su Spotify dove mi sono imbattuta appunto nelle sue canzoni intorno al 2016 e mi sono innamorata dei suoi album li ascoltavo costantemente in repeat proprio uno dietro l'altro per un po' di tempo senza neanche sapere esattamente chi fosse questa questa artista non avevo informazioni su di lei poi mi sono incuriosita sono andata su Google ho cominciato a fare delle ricerche e mi aspettavo che fosse una persona ancora viva rintracciabile così invece ho scoperto che nel 1972 all'improvviso lei lasciò un biglietto al fratello dicendogli paga la la rata della mia assicurazione sulla vita ancora per un mese e poi non farlo più una nota piuttosto un biglietto piuttosto strano da lasciare si è allontanata di casa è svanita non si sa se si è uccisa non si è mai ritrovato il corpo è un caso irrisolto ed è una storia che mi ha devastata e mi devasto ogni volta che la racconto mi vengono i brividi e mi viene quasi da piangere è come se qualcuno è come se fosse morto fosse scomparso qualcuno che mi era proprio vicino una persona intima e sono veramente mi commuove tanto questa questa vicenda e quindi ho pensato poi insomma cominciando a scrivere questo libro ho pensato a lei ho pensato di mettercela dentro in qualche modo per estendere la sua vita non per darle chissà quale happy ending ma per aggiungere qualcosa qualche altra cosa che lei ha fatto qualche altra persona che ha visto e anche per far per citare la sua musica per farla conoscere alle persone e per darle un po' di visibilità credo che questo sia vero per tante persone che ci si possono insomma possono capire quanto sia brutto passare insomma un'intera carriera tanti anni senza essere vista senza essere considerata costantemente nell'oscurità quando invece lei era appunto un'artista tanto meravigliosa che io proprio amo profondamente e quindi per questo ho deciso di metterla nel libro sì mi divertiva l'idea che rispetto a quando un adolescente scopre Bob Dylan poi man mano va avanti e si rende conto che c'erano varie artiste varie donne che erano Dylan prima di essere Dylan che è stato un mentitore seriale rispetto alla questione della biografia e lo riprendo perché poi vorrei lasciare magari anche spazio alle domande io ho letto questo libro tre volte oramai perché emerge a strati e mi rendo conto che nelle prime descrizioni quando cercavo di comunicarlo parlarne rischia di sembrare un romanzo pieno di idee un'avventura intellettuale però in qualche modo molto celebrale molto freddo in un certo senso non lo è perché è un libro su un'esperienza amorosa sul rapporto di una donna vedova che cerca di scoprire chi era la moglie e è un po' dialoga con l'idea che più si conosce qualcuno che l'idea che il matrimonio e il rapporto si debba fondare anche su un mistero in qualche modo che preserva degli equilibri perché questa operazione di conoscenza portata nelle sue forme più radicali ed estreme comporta la perdita dell'altra persona e io non credo di rivelare troppo se dico che questo romanzo effettivamente giunge a una conclusione emotiva che finisce una persona e inizia il mondo e volevo parlare di questa questione dell'esperienza amorosa perché mi pare che venga meno emerga di meno nelle letture di questo romanzo se appunto Dylan aveva scritto Blood on the Tracks che era un breakup album a me questo per tanti aspetti mi sembra un breakup novel e mi sembra un breakup novel anche se poi effettivamente l'altra è già morta come diceva Lacey prima quindi nella biografia non c'è questo elemento perché si sa già che l'altra persona è finita però la voce narrante in qualche modo si separa dall'altra e quindi sentirla un po' su questa questione amorosa nel romanzo a I it is weird how no I mean I think one thing that did come up in the American reviews was like you can never know your spouse like this is a book about how you can never really know who you've married and I'm like absolutely like you would yeah you can't know your husband you can't know your wife thank God let's hope I think when you think you do know everything about the other person then you have to get divorced it's not it's not possible but if you really feel that way you should probably move on so that doesn't but it also doesn't bother me I don't think you can know people completely when it comes to the facts of their lives I don't even know the facts of my own life but I kind of pilot my little person around the world and generally kind of know who I am and that's enough and I think that's nice so the love aspect maybe I'll let Martina do that and then I'll do love Sì, nelle recensioni americane viene spesso fuori questo aspetto ah, questo è un libro sul fatto che non si può mai conoscere fino in fondo la persona che abbiamo sposato e dice, beh, ma sì, certo ovviamente sì è così ma meno male che è così è evidente che non si può mai conoscere fino in fondo il proprio partner grazie a Dio perché se uno arrivasse è impossibile ma se uno arrivasse a sapere assolutamente tutto della persona con cui sta dovrebbe divorziare dovrebbe passare ad altro insomma se avesse proprio questa piena e totale conoscenza dell'altro il fatto di non conoscere fino in fondo la persona con cui sta non mi dà fastidio anzi, credo che proprio sia impossibile conoscere una persona fino in fondo non conoscono fino in fondo neanche me stessa neanche tutti i fatti della mia vita non sento di conoscerli neanche io stessa rispetto a me diciamo che mi mi piloto mi guido nel mondo senza sapere per filo e per segno chi sono quindi figuriamoci il mio partner insomma la persona con cui sto I also I'm friends with this writer named Leslie Jamieson and she just released a book that's a memoir that's a lot about her divorce and we were talking while she was writing it and she was saying that a friend of hers gave her this advice that if you're writing a divorce story has to also contain the love it has to it can't just be about this asshole doing this terrible thing it's like well so what he's an asshole but you fall in love with that asshole and so you have to tell the love story of falling in love with this person that then became a tyrant and whatever and I think to some degree I mean I was done writing X when she said that but it definitely rang true to like that of course she discovers things about her wife and the process of doing all this research about her that she would have liked to have not known and so there's a way in which she feels betrayed from beyond the grave and hurt even though she's already been without her for years at that point but I really had to write it from a place of what it felt like for her to fall in love with this person from the beginning even though I knew I think I know I don't know if I knew I didn't plan it I don't outline novels but I think I knew that this was gonna this was gonna go badly for the biographer you know so I knew she was going to feel betrayed at some point but I started from the place of what did it feel like to fall in love with this amazing manipulative charming crazy person and I had I knew kind of what that was like so I wrote from there the other person soltanto unicamente con uno stronzo che odi e perché te ne sei innamorata quindi devi necessariamente metterci dentro anche tutto l'amore che hai provato per la persona che poi ti è diventata un tiranno un despota che hai rifiutato e così anche nel mio libro CM la narratrice scopre e la biografa insomma scopre facendo le ricerche una serie di elementi di aspetti della vita di ex della sua di sua moglie che preferirebbe avrebbe preferito non sapere mai si sente tradita dalla moglie anche che è già nella tomba ma si sente comunque che anche se sono anni che non stanno più insieme appunto perché ex è morta sente profondamente questo tradimento e quindi appunto c'è questo senso di rabbia di delusione ma sono partita dal fatto di come fosse innamorarsi tantissimo perdutamente di appunto di questa personalità molto forte e dominante io in genere non scrivo una scaletta dei miei libri quindi non sapevo fin dall'inizio come la loro storia sarebbe andata a finire ma me la sentivo che in realtà sarebbe insomma finita male ci sarebbe stato un tradimento una delusione finale ma il punto di partenza quello che da cui sono appunto che mi interessava metterci all'inizio era proprio raccontare come ci si fa come come ci si sentiva come ci si sente a innamorarsi di una persona straordinaria una grande manipolatrice una grande fascinatrice una appunto una personalità che ti colpisce a cui non riesci assolutamente a resistere e questa forma di innamoramento per questo tipo di persona io personalmente la conoscevo molto bene questo modo di innamorarmi e quindi è da lì che sono partita per poi raccontare una storia che finisce male e lascerei spazio alle domande appunto sì nel libro come avrete capito c'è anche la questione del tradimento però la romanziera si chiede fino a che punto si può considerare tradimento se una persona che ha scritto le stesse cose che scriveva a te ad altre cento persone però lo applica tutta la sua vita in qualche modo un tradimento costante e perenne dell'identità fino a che punto può essere solo qualcosa che riguarda la coppia o è proprio qualcosa che dice su come esista il mondo infatti X che scappa da questi territori del sud lasciando un figlio una famiglia una teocrazia un sistema oppressivo e dominante e poi scopre la sua libertà arriva a dire che non c'è colpa nella sua vita c'è solo finzione e io avrei altre domande però forse so che ci sono persone in sala che hanno amato questo romanzo e quindi se vogliono farsi sentire fare una domanda a Catherine mi pare una bella occasione qualcuno eccolo là una serie di libri che erano che avresti usato dentro biografia di però hai aggiunto che erano incomplete vorrei sapere quali erano i testi che mancavano so you have a piece on bookshop.org or something with the books that you had used for this one and that list you were saying in the piece that the list was incomplete so she wants he wants to know what books you did I would have to go look at it just name I don't know off the top of my head there's like a hundred books on the list but I felt like it was incomplete I just did it one day and then I didn't feel like it felt incomplete but I think the back of the book that has the works referenced that fills in some gaps but then there's a bunch of others I should complete it I'll do that for you I think I think I think I I I the narrative is an invention un'invenzione che parla della tua creatività in un modo pazzesco. E mi domando se esistono altri precedenti di scrittori che hanno inventato una biografia e che l'hanno resa però così viva e se sì o se no, se questo può essere in qualche modo un nuovo genere letterario, qualcosa che faccia in qualche maniera storia, perché poi questa biografia risulterà nel tempo, negli anni, tra le tante biografie. No, I'm not new. I don't know, but I always blank. I know there are other books that are like biografie or they're fake histories or kind of invent, like, you know, there's an amazing book about Isadora Duncan's life called Isadora that's like 600 pages of like a novel dramatizing things that we don't know about her life. There's a bunch, you know, a bunch of books like this, but I always blank on like, I always forget which ones, so like this question. Guarda ti assicuro che non è una cosa nuova, non sono la prima che scrivo una biografia inventata, insomma, esistono storie false, biografie false, cioè immaginarie, insomma, inventate, però ho sempre il vuoto quando mi si chiede di citarne qualcuna, non mi viene in mente un titolo, ce n'è sicuramente una, adesso la prima che mi viene in mente una, un romanzo, un romanzone fra l'altro di 600 pagine che si chiama Isadora, che è una, insomma, un racconto, una fittizio, insomma, finzionale della vita della ballerina Isadora Duncan e ci sono dentro tutti una serie di eventi, insomma, messi in scena che non corrispondono necessariamente alla realtà e quello è un esempio, però vorrei darti una, insomma, una bibliografia, ma proprio non mi viene in mente adesso, però sicuramente non è, nella prima, nell'ultima, non si sentiva di essere una pioniera, insomma. E io, forse, se avete pazienza, ho un'ultima curiosità mia. Sulla temporalità è il tempo di questo romanzo perché ci sono vari livelli, se vogliamo, nell'architettura delle citazioni, alcune esplicite, questi personaggi che abbiamo nominato, poi nell'appendice si spiega che X, magari in due o tre circostanze, parla come, usa una frase di Clarice Lispector, un romanzo in lingua italiana che ricorre abbastanza e io sono il fratello di XX, di Flerieghi, e quindi ci sono una serie di citazioni nascoste. Però la parte che ho trovato affascinante è che lei si cita degli articoli di critica culturale, di giornalismo culturale contemporanei sulla stampa americana. Quindi, per fare un equivalente italiano, è come se voi leggesse una falsa biografia di un personaggio che frequentava Cesare Pavese e Lucio Battisti o, non so, incontra Silvio Berlusconi, e però i riferimenti sono al giornalismo culturale attuale, come se fossero, per sostanziare la vita di X si cita un pezzo preso da New Yorker o da altre riviste. Quindi questa sorta di ulteriore livello della critica culturale del presente come si innesta e come crea un cortocircuito elettrico con dei riferimenti invece molto stabili, canonizzati e storici. Ma però quelle nel libro sono finte. Sì, però sono leggere. C'è un tipo di Rachel Aviv, c'è un pezzo mutato il titolo, uno di Elvia Wilk, è un po' cambiato. C'era gente che non sapeva che era in questo romanzo che io ho incontrato e ho detto ma mi sono ritrovata al lago quindi era divertentissimo. C'è un po' cambiato? C'è un po' che ha parlato? E quindi ha una cosa che non è più la sua storia. E poi c'è un po' cambiato? Sì, è un po' cambiato? Sì, è un po' cambiato che era C'è un po' cambiato? No, no, no. E poi in questo parte di parte del parto e ho trovato per il dei più di soli e quindi sono sempre in fronte di chiunque e mi piace di avere so it was like a lot of writers that either I know a little bit personally or writers that I don't know personally at all but I feel like I know them because I've been reading them for many years most of the names in there are that some of them are just names of people that I came across while I was working and I just borrowed their name and I think I thought maybe I would change them eventually but then I thought why, who cares, it's just a name I didn't, like I went not trying to make a commentary on anyone in particular, you know, sometimes a name is just a name especially if it's an altered world especially if that, you know, Elvia Wilk that we know that writes beautifully and is a sweet person she doesn't exist, the person we know doesn't exist in the world of this book so just having her name there, I think it's just nice maybe there would be somebody else named Elvia Wilk yeah, like sì, effettivamente ci sono tante persone che credono che alcune delle persone a tanti lettori credono che alcune delle persone e dei nomi che cito appunto in queste note a piedi pagina della falsa biografia siano nomi finti e invece certi sono nomi di persone vere appunto Elvia Wilk non è un nome inventato è proprio una persona, una carissima persona, una brevissima scrittrice quelle certe parti del libro, questa parte del libro le ho scritte nel mezzo del lockdown in un periodo in cui mi sentivo molto sola e quindi pensare e metterci dentro tante persone che conosceva o amici, scrittori che conosco bene oppure con cui ho parlato tante volte o anche semplicemente personaggi reali insomma scrittori o giornalisti, critici, reali che mi interessano era forse anche un modo per sentirmi meno sola poi ho pensato vabbè poi magari adesso li scrivo così poi magari prima di pubblicarli li cambio ma poi mi sono detto ma no, ma perché cambiarli? lasciamoli questi nomi intanto sono puri nomi, che mi importa? che cos'è alla fine un nome? non volevo fare un'osservazione, un commento preciso su tutti questi persone che cito però metterci lì i nomi, che male c'è? sono nomi in un mondo inventato poi che problema c'è? quindi mi è piaciuto l'idea di lasciarcelo nel libro non esiste, non c'è per esempio Elvia Wilk come personaggio, cioè la sua persona non c'è lì dentro ma c'è il suo nome così come un piccolo omaggio e chissà poi magari fra esisteranno altre persone che si chiamano Elvia Wilk e ci si ritroveranno che in questo nome chissà fra 50 anni però sì, questa è stata l'idea e dato che questo è un classico contemporaneo l'Atlantic ha detto che l'ultimo grande romanzo americano in ordine crotologico sarà Macrabo ma le persone viventi citate moriranno pure loro e quindi fra 100 anni si leggerà e saranno dei riferimenti classici e si spera storici come Susan Sontag e gli altri Grazie a Cadele, sia Martina Testa che mi vorrà uccidere e a tutti, lei si firma le copie? se volete, è disponibile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti